Buonasera a tutti, do il benvenuto a tutti voi che siete voluti venire oggi sperando appunto che non piova, me lo auguro davvero perché al termine dell'interessante pomeriggio potremo fare appunto due passi nel foro illuminato che è un'esperienza che merita. Sono qui seduto accanto a Nicola Modugno con il quale proprio alla fine della giornata nazionale del Parkinson dell'anno scorso lui mi disse già Andrea ho un'idea per l'anno prossimo, io già mi preoccupavo però invece l'idea era bellissima, era appunto quella di dedicare la giornata al tema dei caregiver, insomma di tutte anche le persone che sono coinvolte nella gestione della malattia del problema e non soltanto medici e pazienti. E questo sarà il tema che verrà sviluppato adesso nelle prossime ore. Mentre aspettiamo che arrivi qualcun altro che è in lista volevo pregare la Reggio di mandare il video promozionale della giornata del Parkinson a cura della Limpe con la voce di Greg, di Greg e Lillo che è già online un po' sui canali social perché adesso è un video breve possiamo vedere insieme. Eccolo. Il caso del Parkinson. Sono Sergio, il varano, un investigatore privato, ho risolto molti casi, stavolta però si tratta di un'indagine davvero difficile dove conosciamo il colpevole, il Parkinson che colpisce milioni di persone nel mondo. Il Parkinson si muove invisibile, nell'ombra si parlisce del corpo, ti fiacca, ti scuote, ti blocca, dobbiamo fermarlo. La ricerca continua e la Fondazione Limpe chiede il vostro sostegno, aiutatela. Bene, adesso possiamo mandare il primo PowerPoint delle mie diapositive che mi servono sempre un po' per aspettare come vediamo gli ultimi arrivati. E poi anche per comunicare, per far capire a chi viene per la prima volta, che questa giornata nazionale che si svolge qui nella cura non è la prima, bensì la terza ormai, e nasce come percorso, come progetto nel 2018, se mi mettete appunto il PowerPoint posso farmi aiutare un po' dalle slide. Nel 2018 dalla collaborazione con l'associazione Parkinson Onlus, con la quale, che era appunto già attiva da anni sull'organizzare attività alternative alle cure tradizionali per le persone con il Parkinson, e abbiamo iniziato appunto a fare delle sedute all'inizio addirittura nell'ufficio panoramico che abbiamo per capire un po' come si poteva fare. Poi ci siamo ben presto allargati ovviamente a tutta l'area archeologica sia negli interni che agli esterni. Quindi questa è la localandina attuale che poi vedrete più in grande, è il primo, come dire, evento che ha fatto un po' da punto di ripartenza, visto anche il successo e il buon esito che avevano avuto queste attività durante l'anno, è stato il convegno Salus per Artem, fatto nel 2019, proprio qui in Curia, e con questo Salus per Artem, con questo nome, abbiamo anche battezzato un programma intero del Parco del Colosseo che si è poi esteso ad altri tipi di problemi, dall'Alzheimer, alla disabilità visiva, uditiva e così via. Quindi è un po' Salus per Artem, è la nostra cornice all'interno della quale ci muoviamo, avendo iniziato con il Parkinson e con Parkinson Onlus. E così abbiamo anche superato la pandemia, come molti di voi sanno, abbiamo fatto cose insieme, e sfruttando il Colosseo deserto abbiamo organizzato appunto nel 2020 la giornata nazionale Parkinson di quell'anno proprio all'interno del Colosseo spettrale, ma allo stesso tempo di grande impatto emotivo, con una diretta streaming seguita. Queste sono le bellissime foto di Francesco Jovine, che ha fatto anche un video su questa giornata che si può ancora vedere su YouTube. E qui appunto Luca Berti, che ringrazio, che insieme a Andrea Spila ha organizzato la giornata di oggi, e era appunto impegnato nella gestione delle dirette, perché abbiamo dovuto fare attività da remoto per le persone a casa. Carlotta, tutte le persone che conoscete, questa è appunto quella foto di gruppo a fine 2020, appena usciti imparzialmente dal lockdown. 2021, altra giornata nazionale, dedicata stavolta alla Mens Sana Incorporo e Sano. Lì vedete appunto in tribuna un pallone da basket insieme a me e a Nicola. Qui in primo piano il tema era appunto le attività sportive che erano condotte dalle persone delle varie associazioni. Io sto per lasciare la parola appunto agli esperti, però volevo dare qualche indicazione sulla curia, perché spesso appunto giustamente ci troviamo qui, può servire. La curia Giulia era la sede del Senato, dove si riunivano seduti su seggi in posizione diversa rispetto alle sedie attuali, nel numero di variabile tra 300 e 600 a seconda del periodo, una curia che volle costruire Giulio Cesare al posto della curia Ostiglia, che era sotto Santi Luca e Martina in questa direzione, ed era un edificio che doveva servire anche da cerniera monumentale tra il foro repubblicano, da quel lato, e il suo nuovo foro a legna e spalle. Infatti ha aperture su entrambi i lati per questo motivo, perché doveva essere un passaggio anche, oltre a come luogo di riunione, un passaggio simbolico tra un foro e l'altro. Poi Cesare morì durante la costruzione. Qui non mise mai piede in pratica da vivo, ma fu tenuta la sua salma quando era ancora cantiere, mentre Antonio faceva la sua orazione funebre dai rostri dall'altra parte di questa porta. Ed è un edificio che si conserva con i suoi 21 metri di altezza ai muri, perché divenne nel VII secolo la chiesa di Sant'Adriano. L'interro nel Medioevo salì moltissimo e il piano di Calpestio era quello appunto più alto nella piazza del foro. Qui vedete una foto dell'864, si capisce bene, oltre agli edifici che c'erano ancora attaccati, quanto fosse più alto il livello, soprattutto sul lato foro. E questa è una rara foto dell'archivio del parco, sono tutti sacchetti di sabbia che proteggono il pavimento durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E con questa immagine di protezione e di cura passo la parola a Nicola che i lavori saranno lunghi e intensi. Grazie Andrea, e come prima cosa vorrei ringraziare Andrea Schiappelli, tutto il parco e mia sorella Marinella che hanno creato questa collaborazione per me splendida e meravigliosa. E non solo dico Andrea che già c'è l'idea per l'anno prossimo, ma rilancio per i prossimi dieci anni. Magari la curia ci avrà annoiato, magari potremo sfruttare altre parti del parco. E ricordo che abbiamo anche un impegno con un nostro amico comune, che è Daniele Silvestri, per fare una canzone sul tema apposito. Stavo per chiamarlo ma stasera suona all'auditorium, quindi non ce la faceva. Se non si è capito, io e Andrea siamo amici di infanzia e ci siamo ritrovati grazie a mia sorella dopo tanti anni. Da piccoli giocavamo sempre insieme e andavamo a vedere la magica allo stadio sempre insieme. Non vi dico qual è, qualcuno lo sa, qualcuno lo potrà indovinare. Allora, la prima cosa che vorrei dire, vorrei fare i miei più grandi complimenti a Emanuela Olivieri di Parkinson Giovanile Roma, Andrea Spila e Luca Berti, che sono le tre persone accompagnate da un ospite che hanno organizzato questa giornata. Il titolo che loro hanno scelto lo trovo stupendo, siamo tutti coinvolti e a mio avviso è molto in tema con quello che è uno degli obiettivi che ci stiamo prefiggendo con alcuni neurologi, che è quello un po' di riscrivere, ma non stiamo facendo i renziani che vogliamo riscrivere completamente il Parkinson, ma vorremmo riscrivere delle nuove pagine che riguardano il Parkinson, che a nostro avviso fino ad oggi non sono state ancora riempite. E queste pagine riguardano esattamente quella che loro hanno ben chiamato la medicina collaborativa o partecipativa, nella quale per la prima volta collaborano insieme pazienti, partners e medici, che trovo molto importante. Appositamente abbiamo saputo da pazienti italiani, inglesi e di altre parti del mondo, che il termine caregivers non è molto amato e quindi per il momento lo stiamo trasformando in partners e poi è aperto il sondaggio per qualsiasi altro nome più votato e più gradito. Ed infine, per terminare i ringraziamenti, ne ho ancora due. Il primo è una dedica, è una dedica molto speciale e vorrei dedicare questa giornata appositamente a una persona molto speciale che purtroppo non sta più qui con noi, perché ahimè non il Parkinson, ma un'altra parte del corpo se l'è portato via e si chiama Stefano Infante. Era veramente un grandissimo amico, oltre che una persona speciale e credo che nella sua specialità, voi lo potrete apprezzare più tardi, perché abbiamo portato qua oggi, grazie a quegli altri supereroi che si occupano dei pazienti nei vari laboratori, abbiamo portato qui un piccolo estratto di un pezzo recitato da Stefano, che a mio avviso è l'agurio più bello che una persona potesse dedicare agli altri e credo che sarà dedicato a tutti voi, a tutto il futuro, lo potrete apprezzare più tardi. Devo dire, qui è bello, ieri sera ci siamo confrontati con Luca, io l'avrei mandato adesso, ma Luca e Andrea e Manuela hanno preferito un'altra disposizione e io nel pieno rispetto della collaborazione, perché collaborazione democratica a mio avviso significa questo, ho accettato la loro scelta, nonostante rimanga della mia idea, ma credo che sia giusto rispettare quello che gli altri decidono, perché si collabora. E l'ultimo ringraziamento lo vorrei fare a tutti i medici che hanno accettato la partecipazione odierna, a partire da Mariangela, Pierantozzi che vedete fra poco, c'è il dottor Marano, il dottor Bove, la dottoressa Rinaldi, che sono espressione di vari posti di Roma, il dottor Marano dal campus biomedico, il dottor Bove dal gemelli, la dottoressa Rinaldi dal Sant'Andrea, il dottor Muschera, esattamente, scusami, e poi dovrebbe venire, avevamo invitato, aveva detto che sarebbe venuto il professor Stefani, il professor Stocchi, la dottoressa Vacca e tanti altri ancora, Daniele Belvisi della Sapienza, quindi abbiamo invitato un po' tutti quanti, perché l'idea di oggi è che la collaborazione di Luca, Andrea e Emanuela, che io chiamo sempre Emanuela perché mi piace di più, anche se lei sa rabbia, è quella di creare una giornata nazionale Parkinson romana e che per la prima volta si faccia capire a tutti che non esistono divisioni, non esistono parrocchie, ma esiste un bene comune, che è quello come obiettivo di fare il bene di tutti quanti, e questo è il nostro obiettivo odierno, che vuole essere un inizio, sia, ripeto, una riscrittura di nuove pagine che riguardano il Parkinson, che appunto un messaggio di unione e condivisione, ma proprio di intenti per garantire le stesse cose uguali per tutti. E approfitto per salutare tutti coloro i quali ci collegano dal Molise, perché chiaramente avremmo voluto portare il Molise qui, e l'unico modo per adesso è stato quello di portarli via web. A questo punto, sì, volevo approfittare perché pensavo di fare ringraziamenti strutturati alla fine, ma visto che stiamo in argomento, approfitto, ribadisco la mia gratitudine a Andrea Spila, Luca Berti, Manuela Olivieri, che mi hanno sopportato appunto nell'organizzazione del programma che, viste le esigenze nostre di tempi, eccetera, sono stati molto pazienti, oltre che molto bravi a costruire un pacchetto interessantissimo, e a sentire tutti quelli che bisognava sentire. Ringrazio poi Elena Ferrari, che insieme a me conduce da quattro anni ormai, ed è popolarissima tra i soci Parkinson e le attività qui al parco, e anche il personale di vigilanza e assistenza del parco, che fornisce sempre con grande sensibilità l'assistenza alle persone che vengono qui qualche volta appunto con qualche problema di deambulazione, che sono appunto una risorsa preziosa per noi, per riuscire a fare queste cose in un posto a volte complicato come un luogo archeologico vecchio come il nostro. Quindi passiamo subito alla parola. Vedrete scorrere di sottofondo le diapositive della Fondazione Limpe, che diciamo organizza a livello nazionale la giornata nazionale Parkinson, e durante l'intervallo vi manderemo un video sulla manifestazione di punta della Fondazione Limpe, che è la traversata dello stretto. Ma adesso lascio la parola ai mitici tre, senza ripetere i loro nomi, e prego, è tutto vostro, e speriamo buon divertimento. All'intanto chiamo sul palco Nadia, Luca e Carlotta. Che faccio? Allora oggi abbiamo organizzato una tavola rotonda con sette ospiti, che abbiamo diviso in due parti perché il tavolo non ci ve già tutti insieme, quindi eccoci mettiamo un po'. Allora, intanto, prima di presentarvi volevo farvi vedere due o tre slide introduttive sull'argomento. Allora io inizio con un proverbio che mi piace molto, è un proverbio irlandese che dice è al riparo gli uni degli altri che viviamo. La nostra idea è che solamente con gli altri e al riparo degli altri, quindi rifugiandoci negli altri che ci aiutano, oggi ne parleremo molto di quanto gli altri nel momento della diagnosi, nel momento in cui man mano, diciamo, affrontiamo la malattia, sono determinanti. Sono i nostri fari, sono i nostri ponti, sono le nostre guide. Diceva Nicola Modugno, il dottor Modugno, che stiamo assistendo a un cambiamento di paradigma proprio nel rapporto tra medico e paziente. Noi lo chiamiamo, appunto, l'abbiamo chiamata medicina collaborativa, si chiama medicina collaborativa o partecipativa, ed è un modello che è basato sull'ascolto e sull'informazione. Oggi finalmente i pazienti vengono coinvolti attivamente nelle loro cure e questo per noi è fondamentale, perché il fatto che si riesca a condividere, a essere informati, ad avere un consenso, è per noi determinante. Sono finiti i tempi in cui il paziente era meramente passivo, riceveva passivamente le cure. E fra l'altro un aspetto che per noi è determinante anche è l'informazione che il medico ha dal paziente. Finalmente il paziente che è coinvolto può informare anche il medico sulla sua condizione. E questo noi l'abbiamo scoperto anche nel periodo della pandemia, è stato fondamentale, perché quando abbiamo fatto i webinar abbiamo potuto parlare con i medici e ci hanno riferito che è stato proprio importante sapere da noi cosa c'era dietro le quinte. Un'altra cosa importante che volevo dire, questa citazione già narrando si guarisce, il fatto che il contesto, diciamo, medico-paziente è un contesto in cui la narrazione è molto importante. Oggi proprio racconteremo, racconteremo delle storie. Ecco qui, proposito di medicina collaborativa, abbiamo, uno degli aspetti fondamentali è l'inclusività. Allora noi riteniamo che questo tipo di approccio serva a presentare, a proporre quella che noi chiamiamo una società curante. Prima si diceva come chiamiamo i caregiver. Noi sappiamo che per esempio esiste il termine medico-curante, no? Noi riteniamo che ci siano amici curanti, partner curanti, familiari curanti, maestri e istruttori di terapie complementari che sono nostri curanti. Quindi in questo modo riteniamo che noi siamo tutti veramente coinvolti in questo processo come una comunità curante e quindi immaginiamo un welfare dal basso. Cioè immaginiamo che si possa finalmente dare il giusto rilievo alle associazioni che svolgono un ruolo fondamentale. Cioè questo welfare dal basso già c'è in qualche modo e oggi siamo anche a parlare di associazioni e del loro ruolo fondamentale. Siamo tutti coinvolti, questo è il tema, appunto abbiamo scelto questo titolo e vogliamo dire che siamo tutti curanti. Quindi la persona con il Parkinson, il neurologo, i familiari, eccetera. Quindi oggi racconteremo sette storie di curanti. Ma prima di iniziare volevo fare qualche ringraziamento anch'io. Intanto per le foto che avete visto che sono di Vittorio Vic che ho visto qui da qualche parte e lo saluto. Dov'è? Ciao Vic. Il grande Vic che documenta diciamo le nostre avventure. Naturalmente Andrea Schiappelli Elena Ferrari e tutto lo stato del parco perché veramente come sempre ci hanno assistito in una maniera eccezionale. Quindi veramente grazie mille per questo, per rendere questo evento possibile. Naturalmente i miei due compagni di organizzazione per i compagni di viaggio che sono Luca Berti e Emanuele Olivieri. Quindi un applauso a loro. Grazie. Il Dottor Nicola Modugno senza il quale questo non sarebbe mai stato possibile. Quindi grazie Nicola, grazie molte. Poi naturalmente Marinella e Silvia della Morte che poi concluderà questa nostra la Dottoressa Silvia della Morte e concluderà questa nostra chiacchierata e naturalmente la Fondazione Limpe Parkin'Zone e Parkin'Zone Giovanni di Roma quindi le associazioni di cui parlavamo. Allora iniziamo oggi con Mariangela Pierantozzi che ringrazio moltissimo per essere qua. Mi ha fatto un piacere grandissimo come sempre io mi sento molto onorata di questa partecipazione che insomma è bella, è fruttuosa è molto bella solo che mi ha dato un compito un po' arduo perché ognuno di noi ha un piccolo tema da svolgere come diceva Andrea su un argomento che puoi come dire ci dai là per parlare della collaborazione. Io ho un tema semplice che è una sciocchezza propria perché mi ha detto tu devi parlare dell'amore. Ora l'amore va da la frase dei cioccolatini a praticamente fede, speranza e amore e l'amore è la cosa più importante ed è l'amore che muove il sole e le altre stelle quindi l'amore è enorme e l'amore è molto importante. L'amore come amore di coppia come amore filiale come amore per i genitori come amicizia che secondo me è una forma di amore infinito perché l'amicizia secondo me è una cosa preziosa l'amore può passare come io vi racconterò adesso spero brevemente se sono troppo lunga dammi un pizzico ma l'amicizia no è difficile che l'amicizia si possa interrompere insomma ecco e comunque poi torna per cui secondo me l'amore è molto importante e soprattutto diventa fondamentale quando un individuo deve affrontare una prova come è la malattia di Parkinson io difficilmente la chiamo malattia, patologia è una situazione è una condizione è un cambiamento è un'evoluzione in cui forse uno un individuo una persona deve essere aiutata non solo appunto dal medico dal farmaco dalla mezza compressa da tante cose ma proprio diciamo dal sostegno io vi volevo raccontare rapidamente senza annoiarvi troppo la storia di un mio paziente amico a cui ho chiesto comunque il permesso e lui si chiama D questo mio paziente amico D nasce nel 1970 e praticamente ha 36 anni la diagnosi di malattia di Parkinson nel 2006 un Parkinson rigido acinetico con un impaccio motorio quindi insomma con un po' di difficoltà lui lavora in un grande negozio di materiali per ufficio e ha funzioni di amministrative fa diciamo contatto con il pubblico fatturazione di notuli adesso non ho un linguaggio insomma appropriato però rapporti con i grossisti insomma fa un sacco di cose è un ragazzo molto in gamba è sposato una bella famiglia con una bambina che praticamente quando lui ha la diagnosi ha due anni viene seguito nel nostro ambulatorio a Tor Vergata nel 2008 quindi comincia questo cammino con la malattia di Parkinson purtroppo è una forma un pochino diciamo importante quindi lui dall'inizio fa dopaminagonisti fa gli inibitori delle monoaminossidati che voi insomma conoscete e poi comincia anche a prendere la levodopa questo gli consente di mantenere una bella vita di una vita lavorativa attiva non ha problemi però ha una grande insonnia comincia a essere un po' troppo iperattivo non stacco mai è molto diciamo nervoso se possiamo così dire nel corso degli anni purtroppo però lui ahimè un po' peggiora nonostante tutto perché la malattia lo sapete a volte può essere un po' matrigna e andiamo avanti negli anni qualche difficoltà maggiore lui però continua sempre a mantenere il suo posto di lavoro con grande capacità non ha non ha problemi ha più problemi forse nella vita personale nel 2013 il quadro peggiora un pochino di più nonostante tutte le terapie e tutto quanto compare una distonia dolorosa insomma diciamo l'insonnia peggiora e nel 2013 la moglie chiede la separazione hanno perso il secondo bambino non hanno solo questa bambina adesso ha qualche anno e la moglie chiede la separazione che è una separazione brutta una separazione cattiva è una separazione con burrascosa problemi di soldi lui non sta più lui quando viene a fare la visita da me mi racconta che ha lasciato la casa vive in ufficio e non può vedere la bambina la moglie gli fa la guerra io insomma comunque faccio il mio ruolo di medico che è comunque il ruolo di medico e poi lo rivedo a distanza di sei o sette mesi e lo vedo triste abbrutito sovrappeso sciatto non so come dirvi lui è una persona molto curata molto un gran bel ragazzo se mi devo un po' esprimere che è la verità alto moro un bel uomo però diciamo che non va ecco e lo vedo accompagnato da una nuova persona che come posso dire non non mi sembra insomma adeguata una donna che insomma ha un atteggiamento non bello una persona che non lo cura molto che lui ha trovato non so dove con cui si accompagna io capisco che ci sono anche questa persona ho l'impressione che sia anche interessata a qualcosa di economico e quindi non contribuisce alla serenità di questo ma anzi io mi preoccupo molto però poi ovviamente il mio ruolo è sempre quello del medico faccio delle raccomandazioni gli dico di cercare di avere una vita regolare di ritrovare un po' un fulcro eccetera però poi insomma la cosa finisce così cosa succede che dopo alcuni mesi praticamente lui ha un incidente con la macchina perché non riesce a controllare il freno quindi aveva dei movimenti involontari oppure era lui mi ha detto che era molto arrabbiato insomma era un po' iracondo per cui piglia e boom ha un incidente con la macchina tampona un'altra macchina da questa macchina scende una donna con gli occhi azzurri i capelli biondi questi si parlano si guardano e si innamorano quindi io rivedo questo giovane uomo a questo punto questo accadeva nel 2015 dopo alcuni mesi accompagnato da questa donna e lo vedo dimagrito curato meglio e lui mi presenta l'angelo a M io rimango perplessa perché non capisco come in pochi mesi ci sia stato questo cambiamento e devo dire che poi io sono un po' una romanticona però insomma rimango molto colpita da questa storia questa donna poi mi chiede della malattia di D io le spiego che cosa è che è una malattia cronica può essere evolutiva che ci sono dei problemi e lei capisce accetta in qualche modo combatte perché poi Daniele ha smesso di prendere un farmaco si è messa a dormire si è messa a orario quindi l'insonnia si è risolta la cosa è andata sicuramente meglio lui praticamente ha riformato una famiglia con questa con questa con questo angelo come la chiama lui che non è una diciamo una di carattere una che lo tiene anche a freno ovviamente la malattia è andata avanti quindi ci sono dei problemi delle discinesie dei blocchi però lui è sereno dorme addirittura si è licenziato dal suo posto di lavoro e ha cominciato un'attività improprio quindi lui è il suo datore di lavoro io ero terrorizzata però con il sostegno di questa figura femminile che a sua volta era una divorziata quindi aveva una figlia quindi lui ha accolto la figlia di questo hanno creato una nuova famiglia affrontano affrontiamo la malattia di Parkinson insieme io penso che di farà breve una DBS perché è giovane ed ha dei problemi però lui è un uomo realizzato è sereno e mi ha dato una grande lezione io volevo condividere questa storia con voi ecco grazie grazie Maria Angela e avendogli chiesto il permesso saluta tutti che non è di Roma e non poteva venire però mi ha detto di sì fai di e saluta tutti da parte mia ecco questa era la cosa che volevo grazie Maria Angela e di il nostro il protagonista di questa bellissima storia d'amore ha avuto un incidente stradale e questo incidente diciamo qualcuno l'ha salvato sì ecco fratto tu avevi una citazione ma la teniamo per dopo di Michael J. Fox adesso dimmi tu poi dopo c'è la racconti perché poi mi sembra molto pensi che lo pronuncia anche in conclusione anche dopo quando vuoi a proposito di persone che ci salvano la vita cioè il secondo tema è quello della diagnosi e lo affrontiamo con Nadia Nutali che ringrazio molto ecco il microfono allora Nadia racconta una storia che si intitola un anno di corrispondenza e anche tu hai una storia che in qualche modo è una storia è sicuramente una storia d'amore tutte le storie che oggi raccontiamo sono storie d'amore assolutamente ci dici come 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 hai conosciuto Ivana intanto io ringrazio Ivana perché mi ha dato fiducia soprattutto e la stima per poter dire questa sua storia così privata così importante ho conosciuto Ivana 15 anni fa lei si avvicinò allo yoga io sono insegnante yoga e venne venne la prima volta questa ragazza giovane 40 anni circa spaurita non parlava mai con nessuno anche dopo finita l'attività quando ci confrontavamo lei rimaneva sempre in silenzio non avevo ben capito che cosa che cosa avesse e questo è successo andò avanti per un periodo di tempo poi una sera mi arrivò una lettera a casa e ancora adesso questa cosa mi emoziona perché era una lettera di disperazione di rabbia di rifiuto di incomprensioni è stato un un getto lei mi chiede scusami non so con chi sfogarmi ho pensato forse di poterlo fare con te e quindi mi ha raccontato la sua storia da poco aveva saputo di avere il Parkinson e questa cosa la faceva star male ma male veramente era una cosa che lei ha rifiutato dal principio ed era arrabbiata contro tutti arrabbiata con con gli amici con i parenti con tutti si sentiva frustrata e non voleva assolutamente dire questa cosa dire che cosa aveva questa queste lettere si sono sosseguite per tanti mesi per circa un anno noi ci sentivamo tutte le sere e il giorno ci vedevamo per le attività di yoga e di meditazione piano piano con varie tecniche di meditazione un giorno Ivana ha detto a tutti quanti io ho il Parkinson e in quel momento è come se se rinascessi fosse liberata da un peso grande che aveva dentro e che aveva rifiutato l'ha accettato non è stato semplice assolutamente Ivana ha avuto tante storie e non molto belle io non lo so se queste storie poco so del Parkinson devo essere sincera e per me questa partecipazione è veramente un onore perché conosco delle cose che non avevo conosciuto e mi sono persa tanto mi sono persa tanto Ivana in un periodo della sua vita è rimasta sola sola ad affrontare una cosa più grande di lei aveva tutto la giove la famiglia la bellezza bella bella ancora adesso è bellissima non bella e lei pensava pensava di aver perduto tutto e invece non era così perché poi piano 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 si accorta di tutto l'amore che aveva intorno delle persone che ha frequentato noi siamo una grande famiglia non ci sono allievi insegnanti noi siamo una grande famiglia dove un problema di uno è il problema di tutti la gioia di uno è la gioia di tutti e questo è lo spirito dello yoga e quindi siamo andati avanti e sono 15 anni adesso che abbiamo questo questo rapporto adesso lei è un po' più serena ma ogni tanto ogni tanto non è che accetta molto ogni tanto ritorna un pochino indietro e non gli va bene questa cosa è una cosa che comunque capisco perfettamente perché la limitazione e l'essere solo perché sono due cose che purtroppo quando si ha una persona accanto una persona che ci sostiene e beh allora si può affrontare tutto qualsiasi problema ma quando si è soli e lei spesso è sola e allora la cosa è molto triste perché viene e si cade in depressione e si rischia tantissimo ecco perché noi nel nostro piccolo veramente nel nostro piccolo cerchiamo di stargli vicino più possibile lei non è mai mancata una lezione di yoga lei ha fatto tutte le meditazioni ed è l'unica persona che può aver dato esempio a tutti gli altri tutti gli altri compresa me abbiamo imparato molto da Ivana grazie Nadia questo questo è importantissimo questo arricchimento che è reciproco di cui di cui mi parlavi quando ci siamo preparati e voglio dire anche che la rabbia la delusione anche il dolore che Ivana ha provato quando si è sentita sola di fronte alla diagnosi è un tema come dire che ricorre spesso e uno dei problemi è proprio che ci troviamo tutti in difficoltà poi nel momento non solamente la persona con i Parkinson ma tutti quanti i medici e i familiari e tutti allora come come facciamo ad avere un sostegno in questo caso per esempio Ivana l'ha trovato in te l'ha trovato nello yoga l'ha trovato nella comunità vostra nell'amore e nel vostro amore e appunto questa questa questione della diagnosi la poniamo sul tappeto perché è un problema che riguarda tutti quanti e sul quale dovremmo tutti quanti lavorare per far sì che non ci sia questa sensazione di abbandono questa sensazione di solitudine enorme che ha vissuto Ivana quindi grazie anche Ivana per avercelo portato questa storia perché oggi invece diciamo questa rabbia si è trasformata in una come dire in una è rigenerata nell'amore cioè ha avuto una trasformazione una grande rabbia un grande amore lei si sente amata perché noi l'amiamo tutte assolutamente si sente anche un po' coccolata devo dire e soprattutto una cosa importante ha ripreso fiducia in se stessa io ce la posso fare lei diceva prima io non voglio vedere la commiserazione negli occhi delle persone che mi guardano questa cosa mi dà fastidio mi fa male adesso lei non vede più questa cosa perché negli occhi che la guardano lei vede l'amore perché lei stessa ha rigenerato quella positività che prima non aveva più e che forse prima della della malattia diciamo sì e questo percorso individuale è fondamentale e ne parliamo con Luca con Luca Berti che racconta che ci ha portato la sua storia insomma da prima del Parkinson quello che posso dire è che io ero una persona abbastanza chiusa abbastanza sola dal punto di vista delle amicizie delle frequentazioni con le persone e poi a un certo punto tralascio tutta la mia storia perché non interessa viene questa malattia e questa malattia in realtà chiude ancora di più chiude ancora di più in se stessi depressione isolamento vergogna perché sei diverso perché tante cose e quindi anche un po' di disperazione di sconsolatezza invece piano piano ho visto che mi sono accorto è venuto così che quello che anche mia moglie tanto tempo mi ha parlato nella vita nella nostra relazione sono sposato da 30 anni che era importante avere una relazione beh con tutta l'involuzione della malattia c'è stata un'evoluzione nella mia persona che è quella di aver capito l'importanza e quanto sia fondamentale la relazione relazione parlo di vari tipi di relazione cioè la relazione con l'altro con l'altro moglie con l'altro figlio con l'altro amico con l'altro medico la relazione con la natura la relazione con Dio relazione in assoluto e ho visto che mi ha aiutato tantissimo forse oggi anche il fatto di aver organizzato questa cosa il fatto di partecipare molto alle attività dell'associazione contribuire a portarla avanti ha dato ancora di più una spinta a capire quanto questo stare in relazione con l'altro sia importante io ho lasciato il lavoro grazie alla relazione con un altro parkinsoniano non è un merito per lasciare un lavoro una costrizione non potevo farlo però mi ci stavo facendo male nel senso che stavo insistendo dove non riuscivo più a dare a fare a produrre e la relazione con un'altra persona con una parola buttata lì da una persona che avevo conosciuto e che aveva Parkinson come me mi ha detto ma hai bisogno anche tu di curarti stai male cioè un nulla ma quella relazione piano piano che poi siamo diventati molto amici e ancora oggi ci sentiamo l'ho sentito stamattina peraltro dalla relazione arrivano degli spunti importantissimi oggi dopo undici anni di malattia ho tantissimi amici da tantissimi ricevo tantissimo e su questi canali su questi ponti di amicizia di di relazione sono passate veramente tante anche tante gioie tante tante soddisfazioni oggi devo dire che la relazione è stata quindi per me un'arma veramente sorprendente in cui prima sapevo cos'era ma per vari motivi la tenevo un po' a bada invece adesso mi ci sono messo sopra e sto attraversando questi ponti in avanti e in dietro ottenendo un grandissimo una grandissima gioia da questo grazie grazie il tema del lavoro è un tema anche grosso importante rinunciare al lavoro non è facile e per me allo stesso tempo ci permette di coltivare queste relazioni noi l'abbiamo fatto insieme nell'ospedale virtuale volevo ricordarlo promosso dal dottor Modugno e che ci ha permesso di fare un lavoro collaborativo un lavoro volontario che in qualche modo anche questo è curativo sì e in particolare mi ha fatto venire in mente il fatto che abbiamo creato all'interno dell'associazione all'interno dell'ospedale virtuale che sarebbe la parte che si fa via zoom via remoto la tisana cos'è una tisana è semplicemente un incontro un luogo dove virtuale ci incontriamo a sorseggiare una tisana tra amici tra conoscenti tra persone che stanno sulla stessa barca come se fossimo in un salotto tranquilli a sorseggiare qualcosa di piacevole e c'è un nutrimento uno scambio reciproco per cui il male la sofferenza di uno diventa un po' la sofferenza distribuita su tutti ma la gioia e l'inventiva l'esplosività magari di quel momento di una persona viene condivisa anche quello e da qui nasce tantissimo nascono relazioni in giro per l'Italia amicizie e le relazioni tra i pari e le attività che vengono organizzate tra i pari ne parleremo adesso fra poco ma prima volevo parlare di creatività con Carlotta Bortesi e Carlotta il tuo incontro con il Parkinson tu ci porti questo incontro sì il mio incontro con il Parkinson casuale nasce dalla conoscenza di Teresa Guido una coppia che la cui figlia faceva coro insieme a mia figlia e quindi io inizio a incontrare queste persone chiaramente lui aveva già anche se giovane aveva già i segni motori ben visibili della malattia di Parkinson e quindi iniziamo a chiacchierare molto io e la moglie di Guido e a raccontarci insomma le varie esperienze e casualmente mi capita su YouTube di vedere una danzatrice americana Pamela Queen forse alcuni di voi la conoscono che si è ammalata di Parkinson e ha fatto una coreografia molto bella insieme a un danzatore raccontando in quella coreografia la sua esperienza con il Parkinson è una coreografia molto bella molto semplice molto efficace e da lì lei inizia a fare dei corsi di danza per i malati di Parkinson e io inizio a dire a Teresa ma che bella questa cosa e mi ha pensato ma dovrei provare a far ballare Guido magari gli fa bene con questa idea di cercare di aiutare di fare del bene poi le coincidenze della vita io le trovo sempre meravigliose quando ci sono queste coincidenze chi è la mia vicina di casa Marinella Modugno che un giorno passando proprio dice ma sai che ho visto una cosa fighissima che a Bassano del Grappa ballano dentro i musei ci portano i malati di Parkinson fanno una cosa meravigliosa ma io questa voglio portarla a Roma guarda che fanno dei corsi inizio a guardare insomma 4-4-8 faccio le valigie voglio mollo le figlie i miei genitori e vado a farmi questo corso di Dancewell a Bassano del Grappa e da lì inizia questa avventura con voi con tutti voi dove iniziamo a praticare danza all'interno di luoghi artistici prima a Palazzo Spada poi qui al Parco archeologico del Colosseo adesso siamo a Villa Giulia a Palazzo delle Esposizioni siamo stati alla Reggia di Caserta Nicola mi ha portato addirittura a Tarros abbiamo ballato a Tarros in Sardegna quindi questa cosa mi ha aperto delle porte meravigliose degli incontri fantastici quindi questo che mi ha colpito è che poi spesso parliamo diciamo della persona curata diciamo della persona malata come quello che riceve le cure questo non ci piace molto la parola caregiver perché poi le cure sono reciproche le influenze il rapporto è nei due sensi la tua creatività è stata influenzata dal rapporto con il Parkinson tantissimo innanzitutto ha cambiato proprio la mia idea di che cosa deve fare un insegnante di danza perché io venivo dalla danza accademica dalla danza classica ma anche la danza contemporanea che avevo fatto era sempre con un insegnante che ti insegna si fa così si fa cosa e tu cerchi tutta la vita di raggiungere la perfezione assoluta con anche grandi frustrazioni qui c'è anche Elena che mi capisce vero la figlia di Luca sa bene di cosa parlo ore e ore da dedicare a questi corpi che non sono mai abbastanza flessibili mai abbastanza forti che non saltano mai abbastanza non girano mai abbastanza c'è sempre questa rincorsa a essere di più a essere qualcosa di meglio invece poi la danza contemporanea apre completamente altre finestre e inizia a farti vedere che c'è bellezza in movimenti che vanno al di là di certe regole anzi a volte è proprio quel dettaglio inaspettato che spalanca veramente visioni di grande bellezza e quindi questo ha influenzato tantissimo il mio modo di vedere la danza il mio modo di insegnare e ha sviluppato molto anche la mia creatività perché a parte vabbè dice anche diciamo l'influenza anche dei luoghi dove andiamo perché noi andiamo sempre in luoghi particolari e noi attingiamo sempre anche da quello che vediamo per costruire delle lezioni su quello e quindi ogni volta ogni lezione è veramente uno sforzo creativo di far conciliare diversi dettagli per portarli poi a una creazione compiuta ed è proprio un lavoro di grande scambio e e quindi poi sai cos'è la cosa bella anche di questa cosa che il fatto di dover essere creativa mi riporta mi riporta sempre all'infanzia perché credo che sia il momento più creativo della nostra vita in cui abbiamo pochissimi freni e con poco immaginiamo costruiamo per cui ogni volta che vengo a insegnare con voi o che devo preparare una lezione entro sempre in quell'atmosfera in cui non sento più il tempo che passa ti dimentichi ti perdi nelle fantasie nei pensieri che sono sicuramente da un grandissimo benessere a me sicuramente mi fate stare meglio insomma pure voi direi a questo punto se vogliamo chiudere questa questo primo gruppo con quella citazione perché a proposito di arte di bellezza e di rapporto certo volevo voi sapete che la settimana scorsa c'è stata il congresso della LIMP quindi proprio diciamo la parte scientifica di ricerca sulla su quanto si sta facendo appunto per la malattia di Parkinson e nella nella giornata di apertura è stata fatta una lettura magistrale non da un medico ma da un esperto il curatore del museo del bosco di Capodimonte alla fine questo scultore dell'arte ci ha letto questa frase di Michael J. Fox io l'ho trovata molto pertinente quindi anche in questo caso volevo condividerla con tutti voi prima prima della malattia ero Mike l'attore poi sono diventato Mike l'attore con il Parkinson adesso sono solo Mike col Parkinson la malattia ha consumato la mia carriera e in un certo senso è diventata la mia carriera ho dovuto ricostruirmi una nuova vita quando ero già molto felice di quella vecchia il Parkinson mi ha salvato la vita prima bevevo e vivevo a cento all'ora ma dopo la diagnosi ho deciso di cambiare sono diventato un padre e un marito e una persona migliore io lo trovo molto bello come diciamo conclusione di tutto quello che abbiamo detto grazie allora grazie a a Maria Angela a Nadia a Luca e a Carlotta e chiamo il secondo gruppo che è quello di grazie mille ancora Patrizia Marco e Massimo Nicola che c'è da bere acqua a proposito di bevande ecco grazie vorrei iniziare con Patrizia ho parlato di yoga e qualcuno mi diceva che è strano che ci sono ben due insegnanti di yoga in questo gruppo ma è un caso che è una conscienza però vogliamo chiederti la tua storia anche questa è una storia di un incontro in che modo ti ha cambiato questa storia in che modo che ha influenzato la tua professione buonasera a tutti io ho incontrato Emanuele Olivieri il giorno del funerale di mia madre mia madre nell'ultimo periodo della sua vita gli è stato diagnosticato il padre in una forma molto leggera e quando è venuto a mancare ho deciso di non raccogliere i soliti fiori ma di raccogliere dei fondi da donare ad un'associazione non avevo in mente nessuna associazione in particolare quindi mi sono messa alla ricerca e mi è uscita fuori questa PCR io non avevo proprio in mente che il Parkinson fosse un qualcosa che potesse arrivare anche in età matura mia nonna aveva il Parkinson mia madre negli ultimi anni della sua vita ha avuto il Parkinson ma comunque in età più avanzata quindi ho contattato Emanuela che in realtà aveva aperto da pochissimo l'associazione e le ho raccontato la storia e lei ha deciso di venire quel giorno a conoscermi e quando ci siamo incontrate è stato come se ci conoscessimo in realtà avevo più voglia di abbracciare lei che tante altre persone che erano lì e lì abbiamo iniziato un po' a sentirci lei appunto ha saputo che io insegniamo yoga abbiamo iniziato ad organizzare degli incontri inizialmente non di yoga ma delle occasioni per stare insieme e dopodiché abbiamo iniziato a ho iniziato ad insegnare yoga per per la PGR ma ero totalmente impreparata perché io pensavo di insegnare yoga come faccio normalmente ai miei allievi e non è giusto farlo come si fa accademicamente quindi anche qui mi riallaccio al discorso della creatività mi sono dovuta inventare dei modi soprattutto durante il lockdown quando lo facevamo online e c'erano situazioni più diverse quindi c'era la persona che stava benissimo c'è chi stava sulla sedia a rotelle chi poteva fare tantissimi movimenti e chi no e dovevo in qualche modo sono stata spronata ed obbligata a trovare delle modalità nuove per far arrivare il contatto con se stessi che poi un po' quello che è secondo me lo spirito dello yoga non è per forza fare la spaccata o la verticale ma in realtà entrare in contatto con quella parte più sana quella parte d'amore che è in ognuno di noi da qui abbiamo ho iniziato anche a fare ricerca quindi ho visto che ci sono delle tecniche che sono anche state sperimentate a livello scientifico e prova a indicarle tanto loro non ripetono perché non mi stanno dietro scherzo qualcuna sì ma ci sono delle tecniche che veramente possono aiutare e supportare il processo del decorso della malattia io volevo chiederti mi hai parlato di spiritualità pratica il tema di cui ti avevo un po' affiato era quello della spiritualità e volevo chiederti cosa intendi con spiritualità pratica nel tuo lavoro con le persone con i parkins allora non solo con loro ma in generale io credo che ognuno di noi debba riacquistare un rapporto con qualcosa che non è tangibile che non è dimostrabile soprattutto nei momenti di difficoltà quindi da quando parliamo prima della difficoltà dell'accettazione della diagnosi quando tu pensi di essere solamente un corpo e un corpo che in qualche modo è compromesso tutto il mondo può sembrarti molto più pesante quando ascolti che invece dentro c'è qualcosa di universale che appartiene a tutti e che può essere scambiato ed arricchito con gli altri ti toglie un bel peso dalle spalle quindi per la spiritualità pratica io intendo proprio riprendere contatto e conoscenza con questa parte profonda interiore di noi ma per vivere meglio nella vita quotidiana quindi non dobbiamo diventare scete andare a vivere in una grotta in una montagna ma utilizzare queste nuove scoperte per vivere meglio la nostra vita ogni giorno e a proposito di pratica volevo parlarne con Marco perché il nostro incontro è stato un incontro a metà fra rugby e meditazione a proposito di meditazione noi ci siamo incontrati con le nostre con le nostre attività che proponiamo ai nostri ai nostri pari alle altre persone con il Parkinson tu con la tua associazione io con la pratica della meditazione mattutina e allora volevo chiederti appunto ci racconti un po' come è nata la tua associazione e poi come ci siamo incontrati sì dunque la mia associazione Vradirapidi appunto è nata per caso un gruppo di persone che frequentavano il centro di riabilitazione neuromotoria del San Raffaele Pisana a Roma si incontravano lì per fare terapia e il caso ha voluto che uno di essi fosse un appassionato di rugby non ero io a me non fregava nulla del rugby e però mi sono lasciato coinvolgere andiamo in un parco a Roma in Villa Panfili e ci cominciamo a passare questa palla ovale già la odiavo perché quando cadeva per terra li imbalzavo nella maniera più strana e quindi non riuscivi mai a prenderla poi però a un certo punto mi sono reso conto che era una cosa buona perché mi sentivo meglio perché lo sforzo di dover prendere la palla al volo di dover guardare il compagno quando la si passava di passarla all'indietro che è un'altra cosa assurda perché devi passarla all'indietro per andare a fare una meta che poi è davanti ok insomma tutte queste assurdità mi hanno colpito come tutte le cose irrazionali per uno molto razionale come me diciamo sono in qualche modo attraenti e così abbiamo diciamo così chiamiamo fondato questa piccola associazione e siamo tutte persone che sono parkinsoniani o persone che se ne prendono cura diciamo e abbiamo cominciato a passarci questa palla prendendoci sempre più gusto e così siamo diventati possiamo dire famosi siamo più famosi sui social di quanto in realtà meritiamo probabilmente nel senso che siamo veramente quattro gatti però ci siamo sempre quattro gatti sempre diversi ci sono tante persone che vengono e si uniscono e magari non possono Roma è grande non possono farlo tutte le settimane ma quando lo fanno lo fanno sempre col cuore insomma quindi noi ci fa sempre piacere accogliere tutti poi ho cominciato anche un altro percorso che è poi in parte il motivo per cui ci siamo incontrati con Andrea un percorso diciamo più olistico nel mio caso si è sostanziato nel iscrivermi a un a un corso di operatore sciazzo che ho che è una cosa anche quella abbastanza folle che ti diagnosticano il parkinson e diciamo e tu che fai fai l'operatore sciazzo che è una cosa che non mi sarebbe mai venuto in mente se non mi avessero diagnosticato il parkinson ovviamente anche questa quindi irrazionale tutta una sequenza di cose irrazionali nella mia razionalità di fondo che ancora mi devo spiegare diciamo però è andata così e quindi mi sono avvicinato anche alla meditazione in realtà e quando ho scoperto che Andrea aveva un diciamo regalava a tutti tre volte a settimana un quarto d'ora di meditazione alla mattina io ci sono buttato e sono sempre e sono molto contento di questa cosa nel frattempo lui è venuto a giocare a touch rugby e non riesco a toglierlo più di dosso perché sì mi passa sempre la palla praticamente quindi questo è in estrema sintesi la storia della nostra diciamo così irrazionale amicizia che ci ha portato a me a me personalmente io mi sono trovato solo ero in Svizzera allora lavoravo in Svizzera a Politecnico di Zurigo a fronteggiare la diagnosi con un sorriso di plastica del medico che me l'ha che me l'ha appunto enunciata e mi è durato a mezz'ora lo shock diciamo che è stato il tempo che ci ho messo a camminare dallo studio medico all'ufficio e lì ho immediatamente deciso ho avuto un po' una reazione diciamo così improvvisa e come dire irrazionale forse anche quella che è stata quella di dirlo immediatamente a tutti i miei colleghi e ho subito cominciato a raccogliere amore perché ne avevo veramente bisogno poi fortunatamente mia moglie Cecilia che comunque viveva a Roma al tempo e tutte le altre persone qui con i quali mi sono aperto hanno reagito con amore insomma e quindi è stato poi facile diciamo però volevo anche dire che con tutto l'amore che ci possono mettere altre persone nei nostri confronti la prima cosa è quello che viene da dentro cioè il nostro accettare questa cosa e se posso dire un pensiero che mi è venuto appunto un paio di giorni fa non dobbiamo lasciarci definire della nostra patologia ma dobbiamo noi definire che confini dargli come come gestircela cosa possiamo fare e usare fare ognuno trovi la sua strada che potrebbe essere attraversare a nuoto lo stretto di Messina oppure iscriversi a dei tornei di scacchi oppure suonare uno strumento musicale o un corso di shiatsu meditazione fate voi ce ne sono tante le strade giocare al rugby però siamo noi che siamo in controllo che dobbiamo definire che cosa è il nostro Parkinson io sono sempre Marco e con qualche rottura di palle dovuto al Parkinson però però me la sono sempre io ecco questa è la cosa importante sì grazie grazie Marco e provare la 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 forza dentro di noi ma anche trovarla nei nostri compagni assolutamente come è capitato come capitano in tante storie nostre noi in cui ci aiutiamo vicinevolmente ma chiudiamo questo cerchio siamo partiti con l'amore con Mariangela e lo chiudiamo con Massimo sono contentissimo che sei tu a chiudere questa nostra conversazione perché tu ci racconti la storia di un matrimonio quello con Miriam sì che ormai sta raggiungendo il mezzo secolo di di vita e che in realtà è iniziato la vostra relazione molto prima una sessantina di anni fa ce la racconti come vi siete incontrati ci siamo incontrati in un quartiere nuovo che nasceva quindi era come un paese e quindi i giovani si trovavano necessariamente vicini e da lì è cominciato un po' a guardarsi in faccia per circa un anno ci siamo guardati in faccia e basta avevamo 14 e 15 anni e dopo questo anno che ci siamo guardati a un certo punto abbiamo pensato che forse era meglio avvicinarsi un po' di più e quindi è cominciata una storia con tutti i problemi che si potevano avere a quell'età e a quei tempi senza telefonini senza possibilità di comunicare gli incontri erano così un po' casuali si cercava di organizzarli facendo telefonare l'amica tutta una serie di problemi che oggi chiaramente fanno ridere ma che allora erano piuttosto impegnativi e questo siamo andati avanti siamo stati 13 anni prima di sposarci 13 anni in cui siamo chiaramente cresciuti le cose sono cambiate siamo diventati grandi e quindi poi abbiamo cominciato la nostra vita matrimoniale e quindi i primi 30 anni di vita sono stati eccezionali belli perché c'era questa crescita insieme che ancora ci emoziona poi è arrivato dopo i primi 30 anni è arrivato mister Parkinson che ci ha accompagnato per i successivi 30 perché Miriam è malata da 32 è chiaro che all'inizio abbiamo avuto una botta micidiale poi non sapevamo bene di che si trattasse però l'abbiamo superata presto e poi c'è la capacità degli uomini di abituarsi alle situazioni e quindi abbiamo continuato ad affrontare tutto quello che ci veniva avanti con lo stesso spirito che ci ha guidato negli anni precedenti quindi oggi lei è stata sedia a Rosselle da tre anni perché fino a tre anni fa noi ancora ci muoviamo andavamo in montagna viaggiavamo insomma riuscivamo a fare tutto adesso la cosa è diventata un po' più impegnativa è faticosa anche perché gli anni passano però c'è da dire che sì io mi dedico molto la sera posso dire di essere stanco fisicamente ma non nello spirito perché da Miriam ricevo molto lei è una persona tosta una persona con grinta quindi anche se dopo una giornata in cui magari è bloccata se fa un sorriso in parte lo devo a me è una conquista una cosa appagante quindi anche la definizione di caregiver mi va stretta a parte la parola inglese ma per quanto mi pare che abbiamo fatto un ministero che deve proteggere la qualità italiana chiamandolo Made in Italy non abbiamo detto non ci stupisce insomma non abbiamo detto che non so difesa del prodotto o dell'intelligenza o della capacità italiana no il ministero del Made in Italy e quindi chiaro che noi diciamo caregiver perché questa stretta caregiver perché non mi sento di essere definito di essere definito in questo modo quindi tu che dai la cura e Miriam che la dice sì però è una cosa spontanea una cosa che non va catalogata secondo me e io volevo appunto chiudere questa nostra conversazione e dare la parola a sì tanto grazie perché a Silvia della morte che in qualche modo ci può dare le conclusioni di questa nostra chiacchierata e Silvia ti lascio te lascio io stavo così comodamente seduta ad ascoltare in realtà una specie di concerto ascoltavo delle bellissime parole e arrivavano come una carezza per cui inizio con il dirvi grazie e non so se vanno delle immagini avevo preparato un'immagine che la quale sono molto legata che mi sembra opportuna come conclusione ma prima di questo ho tanto da ringraziare anch'io il Parkinson e c'è la versione del Parkinson che è educa e quindi sono 11 anni e sono educata dal Parkinson e vedo che ha una pedagogia molto particolare e oggi ho qui i frutti c'è qui anche mia figlia e vedere come è proprio una pedagogia d'amore quindi voglio dire anche grazie ad Elena che è qui che si è prestata che mette a servizio anche la sua vita con le sue competenze questo può fare il Parkinson e quindi anche dire a Luca che è mio marito che è uno splendido padre da 11 anni nonostante il Parkinson questa era anche il suo più grande terrore e chiudo con questa immagine questa è un'immagine meravigliosa non so se siete d'accordo siamo in Sardegna durante la Sail for Parkinson uso ogni mattina portare questi pazienti amici a fare quella che definiamo la meditazione sulla luna perché in effetti sembra di stare sulla luna quando si sta lì e vedete che siamo in cerchio io amo i cerchi e sono quella dei cerchi alla fine della giornata si fa il cerchio il tempo del cerchio che tutti desiderano dove ci si racconta un po' quello che è accaduto il cerchio parte da qualcuno e arriva sempre a lui e arriva qualcosa che parte sempre da me e mi ritorna amplificato mi ritorna cambiato mi ritorna mosso scosso rotto strappato rinnovato a me torna mi piace pensare che questo nuovo paradigma di cui si è parlato che prende a prestito una parola che amo molto che è l'ascolto faccia proprio questo è morto il mito dell'esperto evviva mi riferisco a tutti noi che possiamo essere psicologi neurologi e abbiamo introdotto il mito dell'essere tutti curanti ma soprattutto dell'essere tutti umani dell'essere tutti in ascolto in primis in ascolto con noi stessi e poi dopo in ascolto con l'altro ma l'altro ci porta l'altro ci porta questo amore che passa per gli strappi come la storia di D che doveva tamponare qualcuno doveva fare un incidente per incontrare quello che c'è oltre la chiamano resilienza a volte questo impatto forte e poi c'era questa diagnosi di questa donna che fa fiorire la sua rabbia è una rabbia come un'energia potente che fa che fa nuove cose che fa nuove tutte le cose c'è questo amore che va stretto e dice ma non posso essere un caregiver io mi prendo tanto da questa donna ecco come l'ascolto diventa la colonna sonora e siamo tutti curanti quindi l'invito è a sentirci responsabili in questo ruolo di curante perché si è responsabili e responsabili vuol dire stare con l'altro dedicargli proprio un tempo quindi inserirei questa variabile dedichiamo del tempo stiamo insieme in un tempo poi c'è una medicina che non costa niente e lo dico sempre Luca mi ha anticipato che è potentissima non so se siete d'accordo si chiama relazione la relazione cura noi non ci salviamo da soli noi siamo l'unico siamo sì ci raccontano che siamo mammiferi superiori però siamo gli unici che lasciati soli moriamo mio gattino l'ha lasciato da solo in qualche modo se la sbriga e se la risolve noi non possiamo stare soli ecco quindi io dico semplicemente ci sono e sono in osservazione sono meravigliata nella mia vita di vedere che ciò che pensavo mi avesse portato via tanto e per alcuni aspetti ha portato via tanto poi mi sta consegnando anche la possibilità di ricevere tanto bisogna avere occhi nuovi bisogna avere di stare vicino con quando penso di non farcela e quindi bisogna stare in questo cerchio dove non c'è chi è superiore chi è inferiore ma semplicemente ci siamo noi umani che ci guardiamo e ci riconosciamo in tutte le emozioni che sono universali faccio sempre un gioco alla fine della sale che è proprio questo del cosa prendo e cosa do abbiamo due mani non ho il tempo di fare questa provocazione gentile perché mi hanno detto che non la posso fare perché non c'è il tempo però vi chiedo quantomeno di guardare un attimo negli occhi la persona che vi sta vicino di pensare che è un universo e di pensare relativamente a questo Parkinson ma cosa prendo e cosa do e di portarvi a casa questo e poi certamente siamo un esercito che ha iniziato una bellissima rivoluzione gentile quindi sono certa che questo porterà chissà tanto tanto lontano che i nostri figli e poi altri noi abbiamo iniziato quindi sono felice di far parte di questo esercito grazie e grazie a Nicola Modugno per aver avviato questa rivoluzione gentile grazie Nicola Andrea devi restare perché Elena non parla senza di te adesso facciamo spiega tu Andrea e dopo questo intervento ci sarà una breve pausa giusto 10 minuti e 4 ore di pausa e poi durante i quali vedrete il video e poi partiremo con la seconda parte vai Nicco qui allora presento Elena Ferrari che è la nostra guida qui al parco che ci regala sempre delle visite guidate splendide ma soprattutto ci regala la sua generosità e io so che stai preparando qualcosa per il nuovo anno e quindi ti volevo chiedere che cosa hai in serbo per noi nel nuovo anno grazie grazie Andrea e grazie a tutti perché ascoltarvi è stato bellissimo avete condiviso con grande generosità le vostre esperienze io vado via sempre più ricca dopo che vi ho incontrato io appunto ho la fortuna di rappresentare il parco archeologico del Colosseo in questo bellissimo viaggio che facciamo insieme da qualche anno che è con Parkinson che si chiama Park in Parco è un viaggio che ha attraversato varie fasi quindi noi quattro anni fa abbiamo iniziato il nostro percorso però ecco quando penso alla metafora del viaggio mi piace tanto perché non conta tanto da dove si parte o la meta ma il percorso e con chi lo condividiamo quindi ci sono stati dei momenti bellissimi e il mio ruolo è stato un pochino quello di accompagnare il racconto culturale quindi a seconda dell'attività che inizialmente era il teatro il sopilates oppure il ecco poi la dance well in qualche modo io raccontavo i luoghi del parco e questi racconti si sono legati anche poi all'attività che poi facevamo tutti tutti quanti insieme poi c'è stato il lungo periodo della pandemia che diciamo speriamo si stia concludendo e poi il ritorno in questi ultimi mesi in presenza con una realtà direi dilatata perché ecco il gruppo è cresciuto tantissimo con la dance well quindi sempre con questa risonanza nelle coreografie di Carlotta dei racconti e io mi sono emozionata guardando questo mosaico perché in effetti ci sono tanti momenti tante persone c'è Andrea che mi ha spesso accompagnato e poi c'è per esempio anche Francesca Pandolfi che per un lungo periodo si è dedicata a Park in Park e riguardo proprio ad Andrea che ho voluto vicino ho pensato e poi diciamo che è nata l'idea di questo nuovo progetto che si affiancherà alla formula già consolidata cioè che è quella dell'attività che di volta in volta deciderete e ci proporrete insieme al racconto dei luoghi e ho pensato che nel periodo della pandemia in cui in realtà eravamo molto pochi c'era la maestra il maestro e c'eravamo io e te che camminavamo nel parco le nostre passeggiate di bellezza e il racconto di questi luoghi secondo me è venuto meglio perché era attraverso il dialogo con te quindi c'era questa dimensione tu hai comunque un dono che è quello di mettere a proprio agio le persone quindi io ho visto che raccontavo anche meglio con la tua presenza vicino e di questo ti ringrazio allora ho pensato a un modo anche per esservi più vicina per essere più presente quindi ovviamente gli incontri proseguiranno nel nuovo anno con me Andrea nel weekend quando secondo il calendario che deciderete però io vi proporrò ogni tanto delle una mattina infrasettimanale che vedremo insieme in cui poi ho pensato a questa formula piccola intima in cui non ci sarà un grande gruppo ma un gruppo un pochino più ristretto per lavorare in un modo diverso allora ho pensato al dialogo al che bilata che permette la condivisione e ho pensato anche a un altro elemento che io amo tanto che sono le fonti perché io appunto parlo da filologa sono circondata da archeologi e quando racconto cerco sempre di riportare le storie alle fonti classiche che penso che siano come dire ciò che dà veramente vita a questi luoghi che ci permette di comprendere pienamente il loro significato allora la mia idea era di anche scoprire degli angoli del parco che non sarebbero probabilmente adatti a offrire il palcoscenico per un'altra attività con un gruppo più ampio però ci permetterebbero di avere innanzitutto di vedere cose nuove e insieme al racconto culturale archeologico pensavo di proporvi ogni volta una fonte antica greco e latina in traduzione da leggere e condividere insieme quindi uno spazio in cui anche creare un dialogo tra di noi subito dopo il racconto in modo che ci sia anche uno scambio perché noi siamo amici dopo quattro anni ma lo eravamo anche molto tempo prima e creare una dimensione quindi più raccolta ho pensato al dialogo platonico in cui tanti filosofi anche se siedono e condividono il proprio pensiero ma c'è amicizia c'è uno scambio una crescita reciproca quindi ci vedremo se vorrete quando vorrete qui io sceglierò dei luoghi dove sarà possibile anche inserire un sentiero letterario che percorreremo insieme per chi vorrà e potrà e ovviamente sarete sempre tutti benvenuti e vi ringrazio tantissimo grazie 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 Elena non vedo l'ora di iniziare questo nuovo percorso e a questo punto ci prendiamo una pausa e ci vediamo fra dieci minuti di nuovo qui con la seconda parte Nicola vuole dire qualcosa grazie a tutti 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 e a tutti grazie 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 a tutti